Sì, che cosa è quello? Sì, che cosa è quello? Sì, che cosa è quello? Siamo topi durante i notti nella carica. No, ma da chi era la vita? Sì, che cosa è quello? Ah, sì, no, ma se ne ho avuto l'automunità, mi sarebbe ricordato, però poi se pensi, la vita è veloce nella vostra forma che mi piacerebbe. Guarda, mi chiede, guarda come se siete dire, me ne lascio, per soli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.